L'intento che ci ha guidato nella composizione del programma per quanto riguarda la parte turismo è quello di far conoscere e condividere tutte le potenzialità del nostro territorio. Il dissesto idrogeologico è un tema molto sentito su questo territorio. Noi siamo pronti per affrontarlo con serietà e professionalità. Progetti di riqualificazione, proposte culturali a 360 gradi. Il decimo municipio merita ben altro che malaffane. La sicurezza è un tema molto sentito in questo territorio. Il nostro è un impegno concreto per riportare la legalità dove sembra che non ci sia più. Legalità, rispetto per l'ambiente, amore e passione per lo sport. Questo è il mio impegno per il decimo municipio. Rilanciamo lo sviluppo economico sul territorio per attraire più risorse per il decimo municipio. In questo municipio abbiamo tantissimo verde, più di tutti gli altri municipi di Roma. Questo verde deve essere rivalutato, deve essere fruibile per i cittadini, così come il lungomuro. Il Movimento 5 Stelle in questo municipio rappresenta l'unica alternativa. I cittadini hanno bisogno di essere ascoltati e noi saremo lì per questo. Come Movimento 5 Stelle del decimo municipio ci impegniamo ad aprire le istituzioni a tutta la cittadinanza. Il decimo municipio sarà un luogo dove crescere e costruire un futuro pieno di opportunità. Gandhi diceva che la civiltà di un popolo si misura in base a come tratta gli animali ed ecco per questo che sono entrata per far parte del Movimento 5 Stelle, per parlare a nome di chi non ha conosciuto. Il decimo municipio non è solo mare, ha un'introterra fatta di preziose risorse archeologiche, storiche e ambientali. Il mio mandato è di fare un sistema a rete perché queste risorse possano essere valorizzate per lo sviluppo del nostro territorio. Il nostro territorio è pieno di bellezze naturali, come il nostro fiume Tevere. Rendiamolo navigabile. E il 5 novembre ricordatevi, andate a votare. Votate per voi il Movimento 5 Stelle. Il mio impegno sarà rivolto allo sviluppo del turismo sostenibile che è un modo di viaggiare nel rispetto dell'ambiente e del territorio. Vi approviamoci del nostro mare, abbattiamo il lungomuro, facciamo sì che sia un'entrata libera per tutti. Vorrei occuparmi di ambiente, una tematica che seguo da anni, in particolare delle politiche del riuso e del riciclo. Vorrei concretizzare in questo splendido municipio gli orti urbani. Cercherò di portare il cash sharing elettrico sul territorio del decimo municipio per avere una mobilità sostenibile. Il decimo deve ripartire dalle sue caratteristiche, che sono importantissime. Cultura, mare, verde. Abbiamo una squadra bellissima di persone che amano questo territorio e come me si impegneranno per la sua rinascita.